Ancora in banchina a scovare le novità di questo salone di Genova, siamo sull'Euphoria 68 in compagnia di Federico Martini, una novità assoluta per questo salone? Sì assolutamente, è la prima volta che il nostro Foria 68 viene qui a Genova ed inoltre essendo un prodotto semi custom ogni barca che consegniamo al cliente è di fatto una novità. Allora l'imbarcazione è di circa 21 metri, un'imbarcazione disegnata da German Freer, estremamente performante ma allo stesso tempo anche molto comoda per la crociera. È una vera imbarcazione Blue Water Cruise, vedremo poi insieme gli spazi interni sono estremamente voluminosi, vivibili e adatti anche a lunghi passaggi oceanici. Per quanto riguarda la coperta si parte da uno specchio di poppa caratterizzato da un ampio garage dove può comodamente entrare lateralmente un tender di due metri e mezzo. Si passa per un pozzetto molto confortevole e vivibile dove siamo seduti in questo momento, pozzetto che in questo caso come in tutti gli ufori a 68 ha ricevuto le attenzioni e le richieste particolari dell'armatore. Quindi vedete per esempio sopra me un bimini che non è il nostro bimini standard ma è un bimini che è stato disegnato dall'armatore e realizzato dal cantiere secondo quelle che erano le sue necessità. La barca come vedete è una barca che è interamente in vinile estero in vetro regina ma con strutture in carbonio, strutture in carbonio che non vediamo nella parte inferiore a livello di scafo e anche con strutture in carbonio come supporto del bimini dove siamo. Scendendo dal comodo accesso ci troviamo nella dinette, una dinette molto ampia che prevede a destra una dinette con tavolo per la cena e alla mia sinistra invece una grande dinette chaise longue, anche questa disegnata su richiesta dell'armatore. L'imbarcazione è basata su un layout unico sulla misura di 21 metri quindi una grande armatoriale a poppa a tutto baglio, una cabina ospiti subito dopo la discesa e poi una cabina vipa prua che contraddistingue anche l'accesso alla zona cucina ed equipaggio. La cosa che caratterizza questo layout è infatti la cucina e la comunicazione tra la parte padronale e la parte dell'equipaggio. Questo rende la zona equipaggio e la zona ospiti quindi completamente separabili. Un layout unico sulla barca di 21 metri ed è quello che francamente fino a questi momenti è stato uno dei momenti decisivi della scelta dei nostri armatori.